. Jasmine Sanders, splendida Barbie d'oro alla PFW Una splendida apparizione alla Paris Fashion Week, in particolare alla sfilata di Dior, ecco Jasmine Sanders assalita dai flash dei fotografi, che non vedono l'ora di immortalare la sua bellezza su carta patinata. La giovanissima modella americana non si fa pregare e gli scatti sono glamour. . Jasmine Sanders alla Paris Fashion Week, che classe d'oro! Uno sguardo magnetico e glaciale, lineamenti perfetti e capelli biondi come l'oro, ecco, in poche parole, come descrivere Jasmine Sanders, bellissima modella americana che sta incantando tutti alla Paris Fashion Week. . Nonostante la sua giovane età, però, la ragazza non è alle prime armi e dimostra uno charme irresistibile davanti alla folla di fotografi che, ovviamente, richiede tutte le sue attenzioni e la sua grazia. . Jasmine sta per assistere alla sfilata di Dior, uno degli appuntamenti più attesi della settimana della moda parigina, e il suo look per lo show ha già conquistato tutti. . La Sanders si presenta in mini dress total black, con gonna semi rigida a ruota che disegna una linea armoniosa sulla sua perfetta silhouette da golden barbie, come si fa chiamare su Instagram. . E a proposito del social delle immagini, la bellissima 26enne è una vera e propria hit giri, con oltre 2 milioni e mezzo di follower che la seguono e la riempiono di like e commenti ogni singolo giorno. . Che successo per la frizzante modella del South Carolina, che conquista, così, tutti i presenti alla PFW e il popolo del web che la segue con tanta passione? Ma chi è Jasmine Sanders e che cosa sappiamo della sua già imponente carriera? . Chi è Jasmine Sanders? Tutto quello che sappiamo. . Cosa sappiamo sulla golden barbie di Instagram, oltre allamicizia con Kendall e Kylie Jenner e ai label Dwin? Jasmine Sanders è nata in Germania, da una mamma tedesca a cui dobbiamo gli splendidi capelli dorati e lo sguardo azzurro glaciale degli occhi. . A proposito della sua allure da personaggio delle fiabbe, ecco un dettaglio molto interessante della sua infanzia, la sua chioma, che nello scatto per Dior non manifesta tutta la sua potenza esuberante, le ha fatto meritare il nomignolo di Goldilocks, ovvero Riccioli d'oro, la bimba protagonista di una delle fiabe più raccontanti di sempre, affiancata dalla mitica famiglia dei tre orsi. . Quei buccoli color del grano maturo sono stati d'ispirazione per Jasmine, che ha deciso di usare una delle sue principali caratteristiche nel suo nickname per Instagram, Golden Barbie, appunto. . Anche se i geni della mamma tedesca sono ben presto emersi conferendo alla bellissima 26enne una meravigliosa aura esotica, Jasmine è cresciuta nella Carolina del Sud, da dove è partita per conquistare il mondo. . Già nel 2005, ad appena 14 anni, la Sanders attira su di sé le attenzioni del mondo della moda e dà il via a una carriera incredibile, che vanta collaborazioni importanti con Forever 21, desiguale Ralph Lauren. . L'anno scorso, poi, si è fatta notare alle varie settimane della moda di tutto il mondo, sfilando per The Knie e Moschino, senza contare la sua apparizione in un super sexy abito arancio al party pre-Oscar di Bulgari. . Alla PFW sta incantando tutti, anche pezzi da 90 come Naomi Campbell, che l'ha invitata a una cena super chic dopo la spilata tributo per Versace. E ora? Dove la porterà il vento del suo charme sconfinato? . .